Chiudiamo la parentesi ebay e apriamo l'angolo della posta. Cominciamo con la prima domanda. Caro Drev, da poco ho saputo che la Nintendo ha annunciato una nuova versione del Wii. Ora volevo sapere un paio di cose. Si hanno già informazioni riguardo alle caratteristiche hardware della console? Secondo te avrà senso comprare la Wii 2 quando sul mercato è già presente la PS3 con il Move? Grazie per eventuale risposta, Enric Salt. Dunque, Enric Salt. Non ti rispondo approfonditamente a questa domanda proprio perché il prossimo episodio sarà interamente dedicato al Wii 2 barra Project Cafè barra Stream, a seconda delle correnti di pensiero. E quindi ti consigliamo di continuare a seguirci per sapere tutte le informazioni al riguardo. E poi secondo te... Già finita? Eh sì. È una domandina questa allora? Eh c'è una puntata intera al riguardo, che è la prossima, quindi... Ah va bene, quando la giriamo questa puntata? Lo so. La prossima settimana? Vediamo insomma. Ciao Drev, ciao Pierfiliberto, ciao cameraman dalla dubbia esistenza. Come dalla dubbia esistenza? Eh non è dubbia esistenza, c'è il cameraman lì eh, anzi ce ne sono due eh, uno grande e uno piccolino che sta lì sotto, chinato, che guarda quello che succede. E come fa quello piccolino? Eh quello piccolino sposta la telecamera di quello grande. Ah il muto non parla. Eh sì non parla, non deve parlare quello piccolino. Ah vabbè, vorrei sapere quali sono i titoli di prossima uscita da voi più attesi. Portal 2 è imminente, o forse è già stato rilasciato a seconda di quando il video verrà trasmesso, e molti chiacchierano già di una possibile Game of the Year Edition. Da parte mia, che considero il primo come uno dei capolavori dell'intero settore, basato com'è su di un'idea tanto geniale quanto immediata, potrebbe candidarsi a titoli ben più alti e di più ampia contingenza. Oppure Mortal Kombat, che sulla scienza... Scusa, 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 cosa vuol dire contingenza? Eh... Ti ho messo in difficoltà. Di spessore più elevato, insomma, di categoria, di fascia più alta. Ah va bene. Credo. Come credo? Eh sì. Oppure Mortal Kombat, che sulla scienza degli innumerevoli reboot di celeberrime saga ad oggi in passerella, pare davvero in grado di rinascere dalle proprie ceneri. Oppure ancora, tra seguiti attesi e giochi zombie resuscitati, si piazza di nuovo la Noir, che promette la vera rinascita di un genere, la Detective Story, ovvero l'iterna chimera del mondo videoludico. Saluti, complimenti e quant'altro. Fa... Fa cosa? Si chiama così. Fa... Però, scusa, eh. Io ho notato che questo deve essere un tipo istruito. Parla in modo molto difficile. Io ho capito metà delle parole che ha detto. Tu le hai capite tutte? No, però... Eh, sei ignorante allora, se non le hai capite. Ho capito che più o meno il nickname dovrebbe essere il suono che fa uno che si butta da un palazzo mentre ti manda a quel paese. Fu... 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 Ma se uno si butta da un palazzo per me fa... Aaaaaaah! Oppure fa... Aaaaaaah! Comunque. Eh... Allora, come... Come appunto stavi dicendo? Scusa, eh, sto simulando giù dalla stella e mi daresti una sistematina? Grazie. Ecco. Dunque, come dicevi nella lettera, appunto Portal 2 e Mortal Kombat ormai sono usciti anche in Europa. Ehm... Per quanto riguarda La Noire, invece, eh, manca una ventina di giorni, se non erro. E anche per quanto mi riguarda, personalmente, è il titolo che attendo di più in assoluto. Quindi speriamo che non deluda le aspettative, sarebbe un vero peccato. Eh... Perché, come detto, di detective story, o di generi comunque simili, non ce ne sono molte. Abbiamo su DS la saga di Phoenix Wright, una saga, insomma, di spessore, però... Però... Se ne vedono pochi, ecco. E quindi, un genere simile, unito al coinvolgimento e al gameplay di un gioco come può essere Grand Theft Auto 4, deve essere una cosa fantastica. Scusa! Ti posso fare la faccia triste? Sì. Ok. Ehm... Per quanto riguarda altri titoli che attendo, ne approfitto... Scusa, posso farti la faccia allegra? Dai! Eh... Non è allegra! È la faccia d'antipasto, quelli! Va bene, faccio la mia faccia normale, allora! Ecco bene! Era per svegliare un po' il pubblico, eh! Perché io mi sto addormentando quando parli! Eh... Va bene! Tra altri titoli che attendo ci sono sicuramente il nuovo Tomb Raider e Uncharted 3. Ah, senti, posso dire una cosa? Sì! Ho giocato con Mortal Kombat, eh! Lo sai cosa mi è piaciuto di più? Sonya Blade? Sì, a parte Sonya Blade! Tana! Mi è piaciuto di più il doppiaggio di Johnny Cage! Eh sì, l'hai... È figissimo quel doppiaggio lì! L'hai fatto a te un doppiaggio del genere! Se lo facevo io veniva meglio, eh! Ah, ecco! Comunque non svegliamo troppo perché ci sarà una puntata dedicata anche a quello! Ah, va bene! Eh... Sì, poi tornando ai titoli che aspetto, sicuramente Diablo 3 esce prima della fine del mondo e Mortal Kombat, se non fosse già uscito, che appunto durante le riprese di questa puntata, però è già uscito, quindi non conta più! Colgo l'occasione per farmi un po' di pubblicità, eh! Ho realizzato questa linea estate-autunno! Adesso ti faccio vedere, eh! Ecco, questa è la mia ultima creazione che sta andando a ruba, eh! Com'è stato autunno? Eh sì, in estate si mette solo la maglietta perché c'è caldo! E l'autunno metti la maglietta sopra gli altri vestiti, no? In autunno si mette già il cappotto? E allora, cosa vuol dire? Ci metti la maglietta sopra! E sopra il cappotto? Ma sì, la compri più larga! Sveglia su, non facciamo sempre le cose più difficili, no? E riesci a venderle? Stanno andando a ruba, ti dico! E quanto le fai pagare? 50 euro! 50 euro per una t-shirt? Ma scusa, le magliette di guru lo sai quanto costano? Ah non lo so! Costano 50 euro! Ma bisogna essere mati per spendere 50 euro per una t-shirt! Sì sì, io infatti ne ho 10, ma sono magliette solo per gente che può! Ah beh, allora va bene! Però la mia maglietta è molto più figa eh! Quella di guru cosa vuol dire? Una maglietta che ho scritto dietro guru guru e poi c'è una margherita? Almeno la mia ti distingui dalla massa! Anzi! Ti dirò, sai che le fanno già tarocche? E come sono? Sono fatte bene? No, sono fatte meglio! Ah però? Ah non è mica male! Vabbè dai, la tua pubblicità l'hai fatta! Chi vuole una maglietta contatti Pierfiliberto! Sì! Ce l'ho anche di contrabbando per chi vuole si spende meno eh! Sì! Poi abbiamo una terza lettera! Terza lettera! Senti ma me la devi buttare in questa magliera! Ma davano in mano per bene no? Ti chiedi! Non te ne approfittare eh! Perché io come ti ho fatto? Ti distruggo eh! Chi sei? Sono Filippo Padone io! Ah! Mi sono a Frankenstein! Allora! Filiberto! Manco mi saluta! Chi è questo mal Ducati? Sabato prossimo ti aspetto per la rivincita! Filmato Gian Maria Capotondi! Ma avete detto Gian Maria? Gian Maria mio serimo nemico! Perché dice che suo papà ha più soldi del mio! Ma non è mica vero eh! Allora! Un mese fa abbiamo fatto una gara! Eh dai spiega! Io e Gian Maria siamo andati al ristorante e abbiamo fatto una gara a chi spendeva di più! E chi spendeva di più doveva pagare tutto! Gian Maria ha ordinato 50 ostriche se le mangiate tutte eh! 50! Io invece ho aggiornato 5 kg di caviale e ci ho detto al cameriere! Cameriere! Porti qua una pentola con 5 kg di caviale e ci grattugi su un mezzo chilo di tartufo! Bianco mi raccomando! Bianco! Sì bianco! Eh! Specifichiamo perché quello nero vale di meno sia mai! No no eh! Ho messo quello bianco io! Quello costa di più! È arrivato il cameriere e mi ha messo la pentola lì che è ancora lì che ribolliva! E ci ho detto! Ci ho detto! No no! Cameriere la puoi buttare via! Tanto io sono allergico al tartufo! Mi sono venite tutte le bollicine! Quindi è perso! E il cameriere? No! Cameriere mi ha detto! Ma è sicuro? Anzi no! Non metta ne una sportina che la porta al gatto! Che tanto lui non è allergico! E così ho vinto io eh! Perché io ho speso 18 mila euro! E invece Gian Maria ne ha speso solo 4 mila! Eh che pezzetto! Eh sì eh! Vedi che è più rico! Adesso vuole la rivincita eh! Va bene! Allora dopo questa lettera dichiariamo chiuso questo angolo della posta! Gian Maria! Non sai che cosa ti aspetta sabato prossimo! Basta! Vuoi fare dei saluti al Gian Maria? No! Gian Maria non lo saluto! Ah va bene! Saluto tutti gli altri miei amici e i miei ammiratori! E basta! E le fighette! Ah ecco! Allora ci vediamo alla prossima puntata! Ciao a tutti! Scrivete eh! Scrivete! Genshin.tv Benvenuti alla quarta puntata di Genshin.tv Oggi ci discosteremo dal mondo dei videogiochi per occuparci di e-commerce nello specifico ebei nel corso degli anni ho eh ma non ce la posso fare è successo? un camion? ma sono il camion qua in redazione dentro neanche questo è il mio è comunque no ho sperimentato troppo ma no mi sta scappando il filiberto da sotto ma scusa eh ma le malette di gurlo sai cosa costano? no non lo so e poi c'è una lettera per te una lettera per me? si la fai vedere? ma dammi la in mano scusa tieni ma me la butti lì così come se fossi l'ultimo arrivato ricordati che sono figlio di padrone io eh come se tu fossi l'ultima ruota del carro allora filiberto ma manco mi saluta questo sabato prossimo ti aspetto per la rivincita firmato Gian Maria Capotondi vuole la rivincita? chi sei Silvestro? grazie a tutti